Si chiama Laleo Lab con laleo che è una parola di origine greca dal significato chiacchierare e parlare. È stata scelta perché l'Università Federico II di Napoli ha prodotto un gioco da tavola contro stereotipi linguistici e apparenze di genere. Il gioco è stato adottato dal comune di Chieti con la collaborazione dell'Università d'Annunzio. In un periodo come questo dove i sostantivi da usare spesso generano confusione, il presidente o la presidente, il sindaco o la sindaca, l'assessore o l'assessora, l'avvocato o l'avvocata eccetera, si cerca di fare chiarezza attraverso una vera e propria partita, colpi di parole in provincia Chieti con gli studenti del licio classico Vico e scientifico Masci. Ma come nasce questo gioco da tavola? Antonella Liccardo, Università Federico II. Io sono fisica, anche la mia collega Angela Gargano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, coautrice del gioco e anche lei fisica, poi paradossalmente è diventato un gioco da tavola tutto incentrato sul linguaggio. L'idea è far riflettere gli studenti e le studentesse sul fatto che il linguaggio veicola una serie di stereotipi di genere, li amplifica, li consolida in qualche modo e quindi l'obiettivo è quello di acquisire consapevolezza. Ci puoi far vedere qualcosa, insomma mi puoi mettere alla prova su qualcosa, non so anche su quel personaggio? Te ne scelgo, aspetta ti scelgo questo personaggio. Allora per esempio questa è un'immagine e i ragazzi e le ragazze nel giocare dovranno rispondere a questa domanda, se questa persona di cui non ti dico il nome ha vinto l'Oscar nel 1935, ha inventato il Wi-Fi, ha inventato il Tampax e la prima attrice transgender. Oscar? Oscar? No, è stata invece Eddie Lamar che ha inventato Wi-Fi, è stata un'attrice ma anche una brillante studentessa di ingegneria, quindi è chiaro che l'immagine riporta d'altro. E poi ci sono, a parte questo, ci sono tutta una serie di parole invece che sono quelle proprio legate agli stereotipi. Il gioco richiama quello del tabù in cui bisogna far indovinare una parola senza adoperare delle parole vietate. Queste per esempio sono le carte Zitella e Scapolo e come si vede entrambe in realtà significano persona non sposata, però nella Zitella diciamo le accezioni sono tutte negative, mentre invece Scapolo ha tutta un'accezione positiva e questo è proprio un classico stereotipo. Assessore o assessora, Chiara Zappalorto, che tra l'altro è nuova di delega alle pari opportunità? Allora, mi piace declinarlo come assessora perché chiaramente è un ruolo che va declinato anche al femminile, così come sindaca, così come consigliera. Superare gli stereotipi attraverso un gioco credo sia possibile e credo sia anche importante perché significa vivere la quotidianità, quindi anche attraverso un gioco per insegnare ai ragazzi che determinati termini, determinate parole ormai sono nel 2023, devono essere ampiamente superate.